One more, please. Laser ZN e Mr. Griff. Attilio Golia, in sostituzione di Giuseppe Cusimano, sul numero 12 di Mr. Griff. Leggermente discosti i numeri alti. Chiusura del mezzo meccanico. C'è lotta serratissima per il comando, con Odun Blu, che cerca di difendere lo steccato, ma ologramma come una scheggia, assume l'iniziativa. Lancia addirittura in tredici e mezzo e ologramma è al comando. Resta scoperto il numero tre di Neverending Bar. Vediamo le intenzioni dei driver. Ologramma è ancora al comando, al completamento della prima curva. Viene incalzato da Neverending Bar e al completamento della curva, all'imbocco della retta. Ologramma e Romeo Gallucci sembra che vogliono farsela davanti. Passaggio qui davanti alle tribune. Siderale 43,6 per i 600 iniziali. Ologramma è scatenata, in testa. Perde qualche battuta, Odun Blu. Scoperto Neverending Bar. Passaggio per gli 800 in 59,8. 16,2 di frazione. Muove dalle retrovie il numero 8 di Newton Rock. Ologramma passa un chilometro bollente in 14,7 con 14,9 di frazione. E Newton Rock ha scavalcato i vari avversari e si pone al diretto inseguimento di un ologramma. E fanno volata lunga il numero 5 di ologramma seguito da Newton Rock. I cavalli completano la retta e imboccano l'ultima curva con ologramma, che è ancora al comando, seguito solo per il momento dal numero 8 Newton, che perde qualche battuta. Ologramma entra e retta arriva con una di vantaggio, seguito solo da Newton Rock. Romeo Gallucci sembra poter controllare, viene via a largo. Raffaele Palomba è nei pressi del palo, però è ancora ologramma, che viene a vincere in 1,59,9. Quindi 1,14,9 o giù di lì.